In occasione del giorno del ricordo per commemorare le vittime delle foibe si è svolto a Taranto un incontro con gli studenti dell'Istituto Righi, organizzato dal Comitato per la Qualità della Vita in collaborazione con la stessa scuola, proposte ai ragazzi le testimonianze relative alle foibe, alla Shoah e al genocidio degli armeni, tra i principali drammi vissuti dall'umanità. Per comprendere meglio gli orrori perpetrati sono stati messi in relazione tra loro i tre genocidi. Lì ha vissuto la sua vita con questa presenza di questi episodi, di questi fatti? Beh, direi proprio di sì, perché i miei nonni erano dei sopravvissuti al genocidio, portavano tutto il peso di questo genocidio chiaramente, ne parlavano poco con noi piccoli per ovvi motivi, però crescendo è cresciuto dentro di noi la conoscenza di questo grande male, il mezzi, come lo chiamiamo noi, ed è una cosa che non possiamo e non vogliamo sradicare da dentro di noi. Il passato che si intreccia con la realtà dei nostri giorni. Infatti il Presidente del Comitato per la Qualità della Vita, Carmine Carlucci, ha celebrato la figura di Vito Fiorino, un uomo originario di Carosino, che nel 2015 ha salvato 47 vite umane in mare. Nell'ambito del progetto Garivo del Giardino dei Giusti, Vito Fiorino, originario di Carosino, era lì a Lampedusa quando arrivarono i migranti e purtroppo ci fu questo naufragio di tanti migranti. Lui riuscì sulla sua barchetta a salvare ben 47 migranti. E noi all'Istituto Righi, al Pacinotti, all'Istituto San Giovanni Bosco, nei prossimi giorni pianteremo un albero ricordando i giusti dell'umanità.